Nell'Inghilterra rurale del Settecento, un giovane aristocratico, Charles Bingley, affitta la tenuta vicino a quella dei signori Bennet, genitori di cinque figlie in età da marito. È passabile, ma non abbastanza bella da tentare me. Ho lottato in vano. Non taccerò oltre i miei sentimenti. Dovete permettermi di dirvi con quanto ardore vi ammiro e vi amo. Quando riceverete questa lettera, non allarmatevi, signorina, per il timore che contenga una qualsiasi ripetizione o un qualsiasi rinnovo di quei sentimenti e di quelle risposte che vi sono riusciti così sgraditi. Se ho ferito i sentimenti di vostra sorella, l'ho fatto inconsapevolmente. E sebbene i motivi che hanno determinato la mia condotta possano molto naturalmente apparirvi insufficienti, io non sono ancora riuscito a condannarli. Cercherò di fare il possibile per porre questa lettera nelle vostre mani nel corso della mattinata. Solo una cosa voglio aggiungere. Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.